Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vedere l'amnì. Andrò a vedere l'amnì nel grido di speranza che infonde di costanza nel viaggio e tra i dolori. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vedere l'amnì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vedere l'amnì. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amén. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. E dello Spirito e l'opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Eccomi, sono la serva del Signore. Sia fatto di me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. E il Verbo si è fatto carne. E viene ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, nei nostri cuori. Perché noi che all'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio. Seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Amén. Preghiamo ora insieme, come un'immensa famiglia, il Santo Rosario. In queste ore di sofferenza e anche di paura, la preghiera è l'unica sorgente di pace, l'unica sorgente di forza, l'unica sorgente di speranza. Meditiamo i misteri della luce. Il primo mistero ci porta lungo le rive del Giordano. Giovanni sta battezzando, ma quando vede Gesù in mezzo alla folla, illuminato dall'alto, esclama «Ecco l'Agnello di Dio! Ecco colui che toglie i peccati del mondo!» Queste stupende parole, il sacerdote le ripete ogni volta che c'erba la Messa, prima di ricevere la Santa Comunione. Ecco l'Agnello di Dio. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, rinveniti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci dura in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, la Tua vita è stata un canto di amore a Dio, misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della Tua anima passi di generazione in generazione, e intoni nel cuore degli uomini un magnificat, sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Maria, armonia di cielo, fa che le corde del nostro cuore vibrino di autentica fede, e trasmettono il desiderio di Dio, e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio, in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del Tuo cuore, ne abbiamo tanto bisogno. Amen. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea. Gesù, insieme agli Apostoli, insieme a Maria, partecipa ad un pranzo di nozze. È un fatto molto bello, significativo. Ma durante il pranzo, Maria si accorge che c'è un disagio. Lo legge forse nel volto degli sposi. Sta per mancare il vino. La festa sarebbe stata indubbiamente sciupata. Senza che nessuno glielo chieda, Maria interviene e ottiene il miracolo. Madonnina, intervieni anche in questo momento. Intervieni con la forza della Tua maternità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del Tuo sieno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del Tuo sieno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del Tuo sieno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del Tuo sieno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del Tuo sieno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del Tuo sieno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. O Maria, Madre della Gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth, portando nel cuore le note del Magnifica. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido, per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani, dovunque. Tieni sempre accesa, nel nostro sguardo, una fiammella di contentezza, che è notizia della gioia di Dio. Fa, O Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con Te, l'anima mia esulta, perché Dio ha posato lo sguardo sulla mia piccolezza. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù, che cammina lungo le strade della Palestina e predica un messaggio nuovo, un messaggio mai udito, che se fosse ascoltato, trasformerebbe il mondo in una meravigliosa famiglia di figli felici. Riascoltiamo soltanto brevemente le beatitudini. Beati i poveri in ispirito, cioè partendo dai desideri del cuore. Beati i miti, non i violenti. Beati i misericordiosi, non gli egoisti. Beati i puri di cuore, non coloro che sguazzano nel fango. Beati gli operatori di pace, non coloro che semino guerre e discordie. Costoro sono beati fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri tesi, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, donna in cammino, da tutte le strade del mondo veniamo verso di Te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto, un volto di Madre. Tu sei la Madre. Il Tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, l'Emmanuele. Tu sei la Madre. Fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio, dove Tu ci aspetti. Amo. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e fa vedere lo splendore della sua divinità. Fa vedere un anticipo del Paradiso. Gli Apostoli rimasero incantati. Speriamo di poter vedere anche noi un giorno questo spettacolo della bellezza di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. D'anzi oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo, impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato, nella casa dei giorni feriali, nelle piccole cose di ogni giorno. Amen. Il quinto mistero della luce ci porta nel Cenacolo, un momento drammatico, ma anche un momento meraviglioso. Nel Cenacolo Gesù apre il suo cuore, ci dona il comandamento dell'amore e ci dona anche l'Eucaristia per darci la forza per vivere il comandamento dell'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Anzi oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra le donne, tu sei benedetta fra le donne, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio, e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone e nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli. Gesù, donaci una brisola della tua umiltà. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia, si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli Apostoli e attraverso di loro la versasti sui piedi di ciascuno di noi. Signore, donaci una goccia d'acqua dell'ultima scena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Amen. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, si tu il nostro sostegno nella guerra contro Satana e gli spiriti maligni. Gli comandi, Dio, supplichevoli ti preghiamo. Tu che sei il principe della milizia celeste, con la forza divina spingi Satana nell'inferno insieme agli spiriti maligni che si agirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, oh Regina, Madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, cementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, frutto benedetto del Tuo Seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Signore Pietà, Signore Pietà, Cristo Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergine, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre immagolata, prega per noi, Madre del Dio d'amore, prega per noi, Madre ammi, prega per noi, Madre del Tuo Consiglio, prega per noi, Madre del Criatore, prega per noi, Madre del Criatore, prega per noi, Madre Bibine del Criatore, prega per noi, Madre del Vigili d'amore, prega per noi, Vergine degna di lode, rega per noi, Vergine potente, rega per noi, Vergine clemente, rega per noi, Vergine fedele, rega per noi, specchio della santità divina, rega per noi, sede della sapienza, rega per noi, causa della nostra letizia, rega per noi, tempio dello Spirito Santo, rega per noi, maverratolo dell'eterna gloria, rega per noi, dimora una consagrata a Dio, rega per noi, Rosa Missiva, rega per noi, corre di Davide, rega per noi, corre d'Avorio, rega per noi, Rosa Toro, rega per noi, Arca dell'Alleanza, rega per noi, porta del cielo, rega per noi, stella del mattino, rega per noi, salute degli infermi, rega per noi, rega per noi, refugio dei decretoni, rega per noi, consulatrice degli affitti, rega per noi, aiuto dei cristiani, rega per noi, regina degli angeli, rega per noi, regina dei patriati, rega per noi, 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 rega per noi. Reggina di tutti i santi, prega per noi. Reggina concepita senza peccato originale, prega per noi. Reggina sutta in cielo, prega per noi. Reggina del Santo Rosario, prega per noi. Reggina della famiglia, prega per noi. Reggina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e lo agisce noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, la vivienda di noi. Preghiamo oggi per i sacerdoti. Insieme al personale medico, al personale delle forze dell'ordine, i sacerdoti stanno dando uno splendido esempio di fedeltà al loro ministero, a loro missione, pagando in tanti anche il prezzo della vita. Signore Gesù, Tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, e una schiera innumerevole di uomini ai quali hai regalato la Tua fiducia per continuare la Tua opera, per seminare la vera speranza, per curare l'infelicità umana. Grazie, Signore, per il dono del sacerdozio. Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori a lottare contro il peccato degli uomini. Donaci, oh Signore, uno stupore inesauribile e una fede grande per accogliere questo dono che nasconde il dono del Tuo amore. Grazie, Signore, per averci amato così. Grazie per il sacerdote che ci ha battezzato, per il sacerdote che ci ha dato il primo perdono, per i sacerdoti che ci perdonano ogni giorno e ogni giorno ci regalano la Santa Eucaristia. Grazie per il sacerdote che ci darà l'ultimo perdono nell'ultimo giorno della nostra vita. Signore, abbi pietà di noi e manda oggi, santi sacerdoti, alla Tua Chiesa. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore perché arrivi in ogni casa, arrivi in ogni persona, arrivi in coloro che soffrono, in coloro che assistono, in coloro che si spendono per asciugare le lacrime e curare le sofferenze degli altri. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo Dio con la nostra vita ogni giorno. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dio Onnipotente, che vieni e ti giurirà, oggi ti odorrà. O Dio festevole, parlo ai tuoi piedi. O Santo Vecine, regno Vecine. O Santo Vecine, regno Vecine. Il piede dolcissimo tuo dolce cuore, e il rifugio al Peccatore. Il piede dolcissimo tuo dolce cuore, il piede dolcissimo tuo dolce cuore. O Santo Vecine, regno Vecine. Il piede dolcissimo tuo dolce cuore. Il piede dolcissimo tuo dolce cuore. Il piede dolcissimo tuo dolce cuore.